Adesso c'è anche l'ufficialità, anche il turno di campionato di Serie C previsto per domenica 15 gennaio slitta a fine febbraio. Le parole di Ghirelli rilasciate ieri a Lanza, che ha parlato di 250 calciatori positivi al Covid su 1700 nei club di Lega Pro, non lasciavano molto spazio ad interpretazioni diverse rispetto alla decisione assunta. Il presidente della Lega di terza serie, sentiti i membri del consiglio direttivo, il parere del consulente medico scientifico della Lega Pro Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica, ha disposto il posticipo della terza giornata di ritorno, che sarà recuperata mercoledì 23 febbraio, tra la nona e la decima, in un calendario compresso che aveva già visto la seconda di ritorno in programma, domenica 9, posticipata mercoledì 2 febbraio, tra la quinta e la sesta giornata. Domenica 23, quando la Lega Pro, esattamente come la Serie D, spera di ricominciare dopo l'ondata di contagi post-natalizi, si ripartirà con la quarta giornata, esattamente quella prevista per quella data. Le due abruzzesi tuttavia saranno impegnate sabato 22 alle 14.30. Il Pescara all'Adriatico Cornacchia contro l'Aquila Montevarchi, il Teramo in trasferta al Benelli contro la Vispesaro. La settimana successiva, quella del weekend 29, 30, 31 gennaio, stesso orario, 14.30 e doppia trasferta. Pescara al Rocchi di Viterbo, Teramo invece al Galli di Imola. Tre giorni di pausa e poi il primo recupero, quello che sarebbe stato in programma questo fine settimana. Pescara tra le mura amiche contro la Carrarese, Teramo impegnato a Siena al Franchi nel mercoledì, che apre un mese di febbraio fittissimo. Partite queste che si giocheranno in notturna alle ore 21. La domenica dopo si riparte con la sesta, Pescara-Gubbio e Teramo-Lucchese, entrambe programmate per le 14.30. Si passa alla settima di ritorno, sette giorni dopo, per il Teramo impegnato a Viterbo, domenica 13 febbraio alle 17.30, posticipo invece per il Pescara lunedì sera alle 21 nella Tana dell'attuale Capolista Reggiana, in coabitazione col Modena. L'ottava era già programmata come turno infrasettimanale. mercoledì 16 febbraio Teramo al Bonolis con la Pistoiese, notturna alle 21 e Pescara, che vista la distanza troppo ravvicinata con lunedì di campionato, giovedì 17 allo stesso orario, ore 21, se la vedrà in casa con la Virtus Entella. Domenica 20 febbraio due gare alle 17.30, il Pescara va al Recchioni di Fermo contro i giallo-blu marchigiani, il Teramo in Umbria a Gubbio per la nona di campionato. Altri tre giorni e si recupera la terza, quella che sarebbe stata in programma domenica 15, tutte in notturna con Vispesaro-Pescara e Teramo-Modena. Chiusura di un mese incredibile dopo altri quattro giorni con la decima. Stavolta sarà il Pescara ad affrontare il Modena ma al Braglia, mentre il Teramo torna al Bonolis contro il Grosseto. Rispetto della salute e della regolarità del campionato, stesse condizioni per tutti i club, ha tweetato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Praticamente, dice, abbiamo fatto una bolla di circa 15 giorni per diminuire i livelli di contagio, impediti spostamenti e assembramenti. La lunghissima pausa sarà un modo per smaltire le positività per molti e per gli altri di ricaricare le batterie in vista di un mese e mezzo, davvero senza respiro.